Ridurre la spesa pubblica a partire dai costi della politica è una delle armi fondamentali per combattere la crisi. Su questo concetto si sono dichiarati totalmente concordi il presidente del Consiglio Veneto, Marino Finozzi, e i rappresentanti dei vertici di Confapi Veneto, guidati dal vicepresidente di App Industria a Venezia, Gajic Saroukanyan, in occasione di un incontro a Palazzo Ferrofini. Finozzi ha illustrato agli ospiti gli interventi anticrisi contenuti nella Finanziaria Veneta 2009. Abbiamo messo a disposizione un'importante cifra per la piccola e media impresa. Questa cifra verrà distribuita poi sui vari strumenti regionali, in primis si va ad alimentare i consorzi e i fidi per almeno in parte limitare la differenza tra ciò che oggi un'impresa è in grado di garantire e ciò che la banca esige come garanzia.